Riffi, quant'altro, bello saluto! Ciao, ciao, ciao! Ma io benissimo, tu? Motodays non si può mancare, è un grande appuntamento anche sul motoday Ma tu ci fai che è presente con le sue fantastiche motos 599 8 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 8 9 9 10 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 12 13 14 14 14 15 17 20 18 16 sette anni fa gli eserciti con quote, dopo il lavoro, lui è un artigiano, va regolarmente in un parcheggio di un centro commerciale della sua città, dove gli danno un holster per far tutto quello che vuole, è beneficiato. Ma questo non ci interessa, perché Emanuele Freddo giustamente diceva che prima ci andava a fare altre cose, in altri orari, ma questo non ci interessa. Eccolo che impenna, incrocio di gambe, Yuri Violo, re-action group, quote action group.